Io ho fatto terza industriale, poi mia madre non poteva poter continuare gli studi, eravamo due fratelli, e far studiare uno solo c'era la possibilità, ma tutte e due no, e allora abbiamo smesso tutte e due, e lì da 14 anni in poi ho cominciato un po' in una fornace di mattoni, ho fatto il ciclista, ho fatto il panettiere 4 anni, senza marchi, come adesso che dicono lavoro nero, io ho fatto 4 anni con la premessa, a 18 anni ti metto in regola. Quando facevo il panettiere, adesso la finanza che arriva in quei posti, allora la chiamavano annonaria, io scappavo nella soffitta e mi ci facevano rimanere dell'ora finché non se ne andava, perché? Perché non era libretto, no? Adesso dicono lavoro nero è la stessa cosa, no? Quindi esisteva già il lavoro nero, e io ho fatto 4 anni senza mettermi una marca, quando arrivava questi qui io dovevo starmene un'ora in soffitta seduto sui sacchi di farina, aspettare che andassero via. E' venuto a 18 anni, ci ho detto cosa facciamo? E mi dice le marche sono alte, non ti posso mettere in regola. E io ho messo la roba in usa, come ne sono andate. Quindi a 18 anni ho cominciato al bar, andavamo al bar, veniva lì quelli che scaricavano le bombole, arrivavano con il camio, e c'era un deposito di Azzinola, e ci veniva a chiamare, insomma, scaricavamo queste bombe, le facevamo qualche giornata così. La prima giornata l'ho fatta una barca piccola che veniva dalla Sardegna, carica di sughero, erano balle di sughero, le mettevamo sui vagoni, io naturalmente ero già dei facchini, e ricevevo sempre la merce, l'altro era la categoria tiraggio, che mandava la merce a terra. E quindi i primi vapore erano quelli, i primi vapore, le prime barche, non erano neanche vapore, le barche ancora in legno, e più tante avevano sughero, zolfo, e poi imbarcavano merce varie. In quei tempi imbarcavano tanta roba della Ferrero, che c'è ancora adesso, imbarcavano di collaria e scaricavano zolfo, sughero, con la merce lì. Quindi del 1955 fino al, a fine 1956, ho fatto il fuorivia. Quando non c'era niente al porto, c'era un docks lì dove c'era il silo delle macchine, che adesso è di fronte alla Toretta, adesso c'era quel palassone grosso, e lì c'era un docks, portavano i vapore, portavano la fecola, da 100 kg, sacchi di fecola. E quando non c'era niente al porto, a quei tempi, c'era Galli, un spedizioniere, che ci diceva, Galli che è arrivato là, ci sarebbe da andare a scaricare là il docks. E andavamo. E per stivale, bisognava portare il sacco da quintali sulle spalle, sulle tavole, che mettevano una tavola, per andare a stivale nei canti alti, doveva salire la tavola, e poi ci dava già mille lire a quei tempi là. Mille lire una giornata. E ci andavamo. Tutto il mondo è paese, come ripeto, prima lì erano agevolati i figli dei soci, io ero sconosciuto, quello lì, allora c'era tanto lavoro, veniva lì da, Pellegrin lì, andava dalla finestra, e lì dei camali veniva lì, c'era una scala, si metteva lì su un, su un, il pilastro della scala, e col libro chiamava lì, però, in giro ci aveva i soci, si diceva, quello lì è mio figlio, quello lì è mio cugino, quello lì è mio parente, e io andavo là, e rimanevo sempre lì, poi un giorno, un mio amico, lì che abitava vicino a me, lui era già socio, e allora mi ci ha fatto presente, a questo qui, e diceva, vabbè, guarda, mandaci un po' anche quello lì, che ci ha detto, è mio cugino, e allora lì mi sono preso, nell'ingranaggio, piano piano sono entrato anch'io, contrabbando è sempre stato, sempre i soliti però, i soliti che si conoscevano ormai, però li conoscevano anche i finanzieri, anche lì c'era già, come adesso, l'ingranaggio, no, ma c'era il finanziere, che quando usciva quello lì, pensi, io ero sui cami a lavorare, no, e si vedeva questo qui uscire, si metteva una giacca, di quelle lunghe, fin qui, no, un giacone, anche se era in estate, senza niente sotto, dorso nudo, ma col giacone, poi si infilava, le stecche di sigarette di dietro, tre, quattro stecche, e tanto che camminava, è logico che sotto al giacone, anche se lo lasciava aperto, si vedeva che, la stecca che puntava, nel giacone, ma passava, rigoliamoci se il finanziere, non lo sapeva, perché il finanziere, magari aveva già, l'aveva già liquidato prima, no, e come io una sera, ero da Capoli d'Orsero, e scaricavamo l'uva, cassette di uva, ma però, già nei pali, no, arrivava il pali, con tutte le cassettine di uva, sono state 5-6 kg di uva, mettevano sul camion, e facevamo dalle, dalle 8 alle 2, faceva 6 ore allora, aveva fatto anche la notte, dalle 8 alle 2, è venuto lì a mezzanotte, due finanziere, che erano dalla porta, e dice, a qui, uva, no, e io ci ho detto, non so, qui c'è i responsabili, come dire, non te la dìva lui, no, non so, no, ma lei, se mette una cassetta di uva, figuriamoci se non ce la dà, la metta nel portabagagli, la metta lì, che poi la passa, no, ci siamo noi due là, e va bene, insomma, a farla in breve, ho messo due cassette, e sono passate di là, una ce l'ho lasciata loro, e una, mi ha andato, portata via, e così, venite da fare, il soprannome, a me per esempio, mi chiamavano, o, buzume, come l'uva, quando è acerba, no, perché io non ero uno che parlava tanto, non dava tante cose, ma, mi chiamavano buzume, e poi ce n'è, ognuno, praticamente, quasi tutti avevano soprannome, Michelin l'americano, perché era stato in America, oh, ma c'è nera, poi quello che girava con la gilera, non li attendiamo, non mi sentivo, gilera, ci hanno persino messo la, 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 una specie di bicicletta, lì con scritto gilera, sulla tomba, c'è appena si entra al cimitero, a destra, se ci fai caso, c'è una tomba, anche se, è una bicicletta da bambini piccoli, ma c'è scritto gilera, perché lui, girava sempre con le moto, e poi era, tipo particolare, vendeva anche lui, e, tutto di contrabando, andava addirittura a comprare la Genova, al porto di Genova, della roba, poi la vendeva lì, porco Dio, no, perché bestemmiava sempre, era nei capi, e bestemmiava, quando trovava a dire, qualche d'uno, la prima cosa, era porco Dio, l'où, 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 la linea, l'où, la prima cosa, la perda è buona, è buona, l'où, allora,